Il nostro giro intorno al globo andando in Polè, in Spagna. In Spagna infatti troviamo tutto il calore, il ritmo, la poesia e soprattutto l'energia radunati e raggruppati in un unico artista. Proviene dalla quarta generazione della famiglia Ferreri, esaltatelo con il vostro applauso e con il vostro accompagnamento vocale durante i suoi esercizi, il ferrista Miguel Ferreri. Grazie. 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 Attenzione perché Miguel Ferreri salterà un ostacolo posto ad un'altezza di un metro sopra la fune tesa sulla quale cammina e sopra questo ostacolo sono poste delle lame di quattro affilati coltelli. Grazie. Grazie. Bravo Michele. Ed ora uno degli esercizi più difficili per un filferrista, il salto mortale all'indietro. Coraggio Michele. Coraggio Michele. Coraggio Michele. Coraggio Michele. Coraggio Michele. Se questo è stato un salto mortale straordinario, all'insegna del sempre più difficile, Michele tenterà ora un salto mortale in avanti. La difficoltà ulteriore di questo esercizio è determinata dal fatto che per un istante, per un piccolo istante, eppure significa tanto, Michele non potrà vedere la porzione di filo sulla quale dovrà riatterrare. Un grande applauso. Michele Ferrell. Grazie. 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 Grazie.